Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay.it Oggi siamo su Survive Into Night Un gioco in uscita il 4 di agosto 2021 Gioco di cui non c'è ancora un prezzo su Steam Quindi ci ritroviamo in un classico gioco zombie Con un'ambientazione open world Dove dovremo sopravvivere e fare fronte a diversi problemi Il gioco non è in italiano E dopo siamo alla versione 1.01 Quindi dovrebbe già essere quella del rilascio E' anche un po' povero come menu a dire la verità Ci troviamo di fronte al solito problema dei non morti E quindi bisogna sopravvivere Lo andiamo a provare e vediamo un attimino di tranne le conclusioni Usa il buzz per muoverti Usa il cursore per mirare Vedete che adesso non abbiamo armi In alto a sinistra vedete la vita, la stamina, la sete E la potenza della torcia Che possiamo spegnere con il tasto F In basso a destra invece le armi Che possiamo shiftare con il tasto centrale del mouse Ruotando la rotella E il doppiaggio è un po' così Ampiamo un po' le casse C'è qualcosa lì Lì c'è un muro Qua ci possiamo entrare Spazio per raccogliere gli item da terra E in questo caso abbiamo il pugnale Andiamo a uscire dalla zona Qua abbiamo un altro oggetto Abbiamo anche un martello Ah il martello, un martello da lancio Oh oh Anche le assi Qua mi dà ancora il coltello Ma in realtà ho Ho il martello Non lo so Vabbè andiamo a vedere Volta a questo tab apriamo L'inventario Dove possiamo vedere dove ci troviamo E dove stiamo andando Insomma tutto La questa corrente esplora Le vicinanze della chiesa Disegni della tua ragazza Che Stava vagando Qui una settimana fa Era diretta qui una settimana fa Qui sotto c'è qualcosa Ok Ho Finalmente Qualche arma seria Però fa rumore Quindi questo vabbè Tutto è praticamente il tutorial Quindi Io come il sospetto Che non ce le lasceranno Queste armi Però va bene Allora vediamo un attimo Se riesco a trascinarle qui Sì Ricarico la prima Ricarico la seconda E ricarico la pistola Ah no 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 Col tasto adesso si lancia È pericolosissima Come cosa Mi ho la testa Prendiamo munizioni Ricarico e andiamo in questa piccola città rurale di Woodland Hill La ricerca che la tua ragazza Che è presa E la scomparsa Insomma Andiamo a Woodland Hill Siamo alla chiesa Tra l'altro Ah con la I o con il tab Insomma sono i due tasti Se prendiamo l'esc Vediamo i tasti giocabili con il pad o meno Andiamo nella chiesa Diciamo che poteva essere Delimitato meglio questo Perché Si fa un po' fatica a capire Dove va avanti Dove c'è una porta Insomma È un po' Un po' complicato Ti fermi un momento Davanti alla Sacra Croce E preghi Niente succede Va bene È entrata una Vediamo se si può interagire Anche col pianoforte No È un po' Un po' così E le collisioni sono Di la verità Un po' così Però c'è un documento Andiamo a vedere Una lettera da Bill Da Bill L'odore della morte In questa chiesa Sta diventando Peggiore Sono orientato Verso i soborghi A sud di qui Per alcuni giorni Sì in pratica C'è del loot Nuovo lì E quindi Recycle bin Cioè Questo è tutto Quello che abbiamo A livello di materiali Quello che abbiamo A livello di munizioni Va bene Quello è Ok Recycle bin E il crafting bench E qua possiamo Craftare diverse cose L'acqua Le batterie Craftiamo questo Craftiamo le batterie E continuo a sbagliare Tasto Ok abbiamo Craftato un po' di roba Prendiamo poi le batterie Questo cos'è? Non si sa Vabbè Il pianoforte Non lo possiamo suonare Collisioni Ma aspettavo meglio Qua è chiuso No Vabbè Ok Cose metalliche Varie E usciamo Andiamo Andiamo verso sud Come diceva la lettera E vediamo Stiamo andando a sud Ci sarà un gruppo di case Adesso qui Da poter esaminare E iniziamo La porta è di là E caspita C'è un fucile Lo prendo C'è un gioco del 99 Silent Hill La Playstation C'è anche un vecchio televisore Una cosa di munizioni Che voglio rompere A recuperare le munizioni C'è un letto C'è una porta del bagno Ma niente di che Quindi qui non c'è assolutamente niente Un po' gli effetti di luce Che ricordano un pochino Le macchine Non si possono prendere Però si possono spostare Guida la sopravvivenza Assente queste campane Ogni notte La chiesa suona L'allarme Perché sta arrivando in città Un'orda Devi trovare un posto sicuro Dove cacchio Lo trovo un posto sicuro L'unica L'unica casa che c'è lì Non posso trovare una casa un po' meglio Questa tipo Ok Ogni volta che mi attacca Non mi fa quell'effetto lì Mi faccio trovare con il fucile a pompa Pronto ad accogliere i nuovi visitatori Sono le 10 di sera E ci sono Tutti gli zombie in giro Quindi bisogna fare attenzione Perché arriva l'orda Posso anche dormire? Ah ok Giornal 2 Posso andare nel letto Che magari dormo Arcade machine Ok Hanno osato fare questa cosa Che cacchio Si è mosso qualcosa in bagno? No mi sembrava Vediamo se posso intanto Vabbè Vabbè Ma c'è qualcosa lì? C'è un pugnale? C'è Vediamo un po' Se riesco a capire dove si entra in bagno Da qui Prendo un coltello da burro Siamo nel giorno 2 È l'una di notte Fuori si sta Sta un po' succedendo di tutto Ma nessuno sa che sono Qui all'interno della casa Quindi Temporeggiamo Aspettiamo un po' Munizioni 6 su 26 Vediamo un po' 1 su 17 Ricarico anche Quella della pistola E quello del fucile Ok Va bene Non so dove io devo andare Perché il quartiere è questo Di Woodland Vabbè Ok Devo trovare Billy In questo Nelle case del vecchio soborgo In pratica ci spiega Dovrebbe essere qui A sud della chiesa Quindi Billy dovrebbe essere da questa Da queste parti Quindi dobbiamo trovarlo Però il problema È che Non possiamo uscire Adesso Con Con tutti gli zombie in giro Quindi bisogna aspettare Il mattino Quindi Aspettiamo un attimino Il mattino Anche perché Dicevo qualcosa Prima a voce Della Della flashlight Quindi non devo farmi vedere Questa è un'altra stanza ancora Stanno entrando in casa I maledetti Spero non mi abbiano sentito Comunque la casa Arriva fin qua Entrate qui Spero non mi Non mi sentano Non arrivino qui Anche se in realtà Sembrano abbastanza stupidi Perché ho sparato Finché potevo Ma Non sentono nulla Allora Diciamo una cosa Di questi giochi Io apprezzo sempre Il fatto che Che tanti sono Open world E magari con Delle risorse limitate Danno comunque Un buon Un buon senso Magari di paura Un buon senso Di tensione E Però diciamo che Qualche problemino c'è Le collisioni Sono qualcosa Che non si possono vedere Purtroppo Però Ho detto È un'India Quindi Vediamo Perché resta comunque Abbastanza Grandevole Come Come tipo di gioco È ovvio Che in un gioco Del genere In un mercato Zombie In cui tutto è saturo Mi aspetterei Che gli zombie Arrivino In base In base anche Solo al rumore Perché ho già fatto Parecchio casino Oddio Poi io sono Un fan Dei giochi Così Di quelli Un po' Alla Hotline Miami Piuttosto Che quelli Dove si va A uccidere I terroristi Quindi Non mi dispiace La tecnica Il tipo di grafica Southwest pass Vediamo Intanto esploriamo A sud Della chiesa E non so dove sia Che cacchio è Quel coso lì Ho visto Un disco volante Che cacchio è Quel coso Che è passato Poi Solo alcune aree Sono Interagibili Nel senso Che si può Entrare Da un Questa mappa È divisa in sottomappe Comunicanti Solo con la strada principale Cushion Vediamo un po' Cosa c'è di qua L'impianto chimico Tanto sono le 5 di mattina Dovrebbe essere Passato il pericolo Anche se No Non voglio giocare All'arcade machine Ho degli zombie davanti Prendo La chimica Spingo Questo Si è rotta L'arma Che spettacolo Qua ci sono i bagni Qua c'è qualcosa Per curarmi Sta suonando ancora C'è finita la notte Ah no Sono già le 8 di sera Ok 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 No Diciamo che Non abbiamo trovato Il mio amico Devo tornare di là Cerchiamo una Rifugio Perché sembrava La notte Ma invece Southwest pass Vediamo un po' Se c'è qualcosa qui Qua dovrebbe esserci una casa Allora Qui Una casa Di là Una casa Comunque Questo billy Non l'abbiamo trovato Le zone qui Vedete che sono Chiuse Da Dei furgoni Che impediscono Il passaggio Quella Alla casa Dove ero Prima In cui Devo comunque Rifugiarmi Nuovamente Adesso è mezzanotte Siamo già nel giorno 2 Comunque Billy Non c'è Billy Neanche L'ombra C'è Di billy Qui Nel Nel Sobborgo Sud Sud Della chiesa Niente Continuiamo a Continuiamo a esplorare Magari questa casa qui Eh si Forse Vediamo C'è un'arma Perché poi le armi si rompono Quindi Carina come Come cosa 20 dollari Biglietto da 20 dollari L'inventario lo stiamo Riempiendo Pian piano Con anche La Le Su gun Il fucile pompa Rotto Qui non c'è Assolutamente niente Dovremmo trovare Almeno una Una lettera Qualcosa Abbiamo rotto C'è una pistola rotta Le macchine Non si possono usare Oh si passa anche di qua Ah ma siamo Abbastanza confusionaria Come cosa Comunque qua Adesso un cambio di musica Totalmente Così Si è rotto anche quello Si sta rompendo tutto Ok Allora fammi rimettere Delle armi Decenti Qui Ok Allora niente Non c'è Bill Cerchiamo Bill Più avanti Nella Casa Ricarica C'è un fucile Rotto No Andiamo avanti Di qua E Bill Non è neanche Qui Quasi finito i colpi No Ce ne sono ancora Headshot Ok 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 questa è un'altra Crafting bench In cui possiamo fare Munizioni Pile Pile per ricaricare Ovviamente la torcia Inizio a sentire sete Potrei usare Potrei vermi un drink Tanto è giusto Devo prendere le cose Che ci sono qui Per terra Ma ho qualcosa da bere Acqua Ok ho bevuto l'acqua Sì Ho bevuto l'acqua Adesso Andiamo verso quel palazzo Vietari Su lì Devo salire da qua dietro Vedete si esce solo arrivando da qua Uh qua c'è stato qualche problemino Ok questo è un palazzo Uno dei più grossi Che c'è In zona Ci sono tanti scarafaggi C'è gente dentro i congelatori Ma di bill Non c'è la touch Però ci sono delle scale Ah da qua Faccio una gran fatica a capire Porta chiusa No Non si può accedere neanche lì Eh onestamente Proprio Darvi una mia conclusione Il gioco Parere mio Al momento Secondo me Per appassionati di zombie Appassionati magari Qualcuno vuole giocarsi qualcosa Dove si esplora Dove si uccidono un po' di zombie Giocatori che hanno amato Hotline Miami E roba del genere E amano gli zombie Potrebbero andare Alla grande su questo gioco Ma Parere mio 4,99 Ve lo dico proprio Senza sapere il prezzo Poi quando vedrete questo video Magari il prezzo c'è già su Steam E potete E potete trarre Nelle conclusioni Vediamo Vedremo Staremo a vedere Però Direi che Voglio fare un ultimo test Perché tanto Billy Non lo troviamo Non so minimamente Dove sia andato Però voglio vedere Cosa succede Quando io muoio C'è schermate così Cioè Ma Vabbè Vediamo Tanto Di vita ce n'è Quindi Non è che si muoia subito Però vediamo un attimo Che cosa succede Ok Posso ripartire Ovviamente Ancora Dalla chiesa Senza Con un po' di roba Anche una granata C'è Cosa che probabilmente Questa ho caricato Un'altra partita Una partita Dello sviluppatore Magari Vediamo un po' se funziona La granata Ho lanciato la granata No Vabbè Insomma ragazzi Questo era Survive in tonight Un indie 100% Sicuramente Sviluppato Da Genetic Studio Che tra l'altro Avevano fatto Anche un altro gioco Che si chiamava Rogue Harvest Che io vi avevo portato E ho fatto il video Parecchio tempo fa E' uscito Nel 2018 Ma ovviamente Non lo ricordo Cioè Ho L'idea Quella in cui Si scava Comunque Si creano basi Si sopravvive Comunque In un ambiente Un po' più fantasy E quello è un gioco Che trovate Sì sui 6 euro E 60 Su Steam Quindi Io mi aspetto Un prezzo del genere Anche qui Fatemi sapere Che cosa ne pensate E noi ci sentiamo Al prossimo video gameplay Alla prossima ragazzi E ciao ciao Grazie a tutti